E' stato attivato il servizio antincendio proprio per prevenire e per intervenire tempestivamente rispetto a un fenomeno come quello dei roghi che purtroppo anche voi giornalisti ci raccontate ogni estate. Destano allarme e rappresentano una vera e propria emergenza nazionale. I roghi che si registrano con sempre più frequenza provocando nella maggior parte dei casi danni ingenti a boschi, colline e aree protette costituiscono oggi anche nel Parco Nazionale del Cilento un fenomeno dilagante a cui porre rimedio con l'aiuto delle autorità locali. Ecco perché con maggiore attenzione i comuni pensano a tutelare l'importante patrimonio ambientale del proprio territorio. A Camerota per esempio nei giorni scorsi è stato attivato il servizio antincendio, un'iniziativa che nasce da un accordo tra l'amministrazione comunale e SMAC Campania sostenuto anche dalla regione e che fornirà un nuovo importante servizio alla cittadinanza. Sarà organizzato per 16 ore al giorno attraverso un accordo con una società che collabora insieme alla regione Campania e che per 16 ore continuativamente vedrà dei mezzi sul nostro territorio pronti ad intervenire, speriamo di no in caso di eventuali emergenze. Il servizio antincendio del comune di Camerota è già entrato in funzione. Lunedì infatti un incendio di vaste dimensioni divampato in località Cuppa a Licusati ha fatto scaltare l'allarme e i mezzi della SMAC Campania sono entrati in azione fornendo un prezioso supporto nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme. L'amministrazione comunale di Camerota ha espresso soddisfazione per l'attivazione del nuovo servizio. Nei prossimi giorni, ha spiegato l'assessore Marco Garofalo, il comune incontrerà i responsabili della società per definire tutte le modalità di gestione dei servizi che la SMAC potrà offrire nell'ambito del territorio comunale.